Nella giornata di ieri ho ricevuto una missiva da parte del prefetto con la quale venivo informata che erano stati trasmessi tutti gli atti al Ministro degli Interni. Sostanzialmente io avevo chiesto nel mese di agosto il commissariamento della Fondazione Pescheria e del Comune perché la Fondazione Pescheria ha violato tutta la normativa per quanto riguarda la trasparenza amministrativa e per quanto riguarda l'anticorruzione. Successivamente ho inoltrato altre richieste inerenti sia alla Fondazione Pescheria per il doppio triplo ruolo di Vimini quale assessore, presidente e anche dirigente dell'anticorruzione e poi sostituito dopo che ha saputo dell'ulteriore mio esposto e anche un esposto contro Vimini. È evidente che qualcosa si sta muovendo, è evidente che perseguire le vie legali della giustizia muovendo le carte bollate, quantomeno ci darà la garanzia che verranno controllati tutti gli atti da parte del Comune. Sicuramente la notizia che il Prefetto abbia trasmesso al Ministro degli Interni mi convince che anche il Prefetto ha qualche sospetto, qualche dubbio sul comportamento della pubblica amministrazione. Per cui io attendo fiduciosa e ovviamente sono sempre convinta che l'unica strada è il commissariamento di Pesaro.